Lei è troppo imprudente, signor Franco. È pericoloso. Ballare con lei? Ma è un rischio che ha dovuto... Parlo del suo rifiuto di poc'anzi. Sua madre era atterrita, e io pure. Davvero, Anna temeva per me? Sì. E io che speravo mi ammirasse mentre stavo sfidando il terribile preferito. Ma lei scherza sempre? Sì, no. Quando guardo due occhi limpidi come i suoi, non potrei mentire. Non crede? Signor Franco, la prego. Ci stanno guardando. Peccato. Mi ero già illuso che lei fosse sola con me. E stavo ringraziando Strauss e il suo waltzer di avermi concesso tanto. L'ho tentato più volte durante questi giorni. Se ne è accorta? Ma suo zio era sempre là, di guardia. Forse non ha fiducia in me. Di lei? Grazie.